Buongiorno a tutti lettori di Inside Marketing, ci troviamo allo Smau di Napoli alla mostra d'oltremare e ci accingiamo a intervistare Emanuele Mazzi che lavora, che effettua l'attività di Blogmeter. Ciao! Noi volevamo porti qualche domanda circa lo svolgimento della tua attività. Tu ti occupi appunto di Blogmeter, ci puoi appunto analizzare meglio quella che è la tua attività? Sì, io al momento sono un Product Manager in Blogmeter e diciamo nel corso della mia carriera dal 2010 ho partecipato attivamente allo sviluppo dei nostri tool. Grazie. La seconda domanda, per quanto riguarda appunto proprio lo sviluppo della tua attività quanto è importante l'automatismo e quanto diciamo l'operato di una persona fisica? Allora diciamo che innanzitutto Blogmeter come caratteristica principale è proprio il fatto che i tool sono sviluppati internamente dalla nostra società, quindi abbiamo internamente sia una fase di sviluppo, quindi produciamo quello che è poi effettivamente il prodotto tecnologico che può essere dato all'azienda oppure può essere utilizzato da noi internamente per produrre appunto una reportistica. Per quanto riguarda appunto il lavoro di analisi di una persona fisica rispetto a quello della macchina è dovuto da quelli che poi sono gli obiettivi del cliente, quindi se il cliente vuole un'analisi veloce, un flash report, cioè vuole sapere soltanto qual è stato il volume di discussioni intorno ad un certo argomento che sia il suo brand, che sia un prodotto eccetera, oppure se vuole un'analisi molto più approfondita. È chiaro che se il cliente vuole un'analisi più approfondita rispetto ad un evento, rispetto ad un lancio di un prodotto, rispetto a una reputazione online del proprio brand, ovviamente c'è bisogno di più tempo e c'è bisogno di una persona che conosce la piattaforma bene, quindi che è in grado di andare ad analizzare quali sono gli insight della piattaforma, ma che conosce anche il settore, quindi sa quali sono le cose più rilevanti, quali sono invece magari le cose più scontate da comunicare. Grazie. Un'ultima domanda, qual è secondo te la differenza del lavoro, della tua attività di Blockmeter per quanto riguarda l'aspetto del lavoro a preventivo e quello che riguarda il postacquisto da parte del cliente? Allora questo è sempre in funzione di quelli che sono gli obiettivi aziendali. È chiaro che se un'azienda vuole utilizzare l'analisi del web, quindi l'ascolto del passaparola online, prima di lanciare un prodotto vorrà sapere quali sono le caratteristiche che la rete ritiene più importanti che un prodotto abbia, quali sono le cose che sono piaciute di più anche della concorrenza, quindi andare ad analizzare il base della concorrenza, sapere che se le persone apprezzano di più una certa caratteristica, quella caratteristica dovrà essere presente e soprattutto dovrà essere comunicata in una certa maniera, quindi è importante sia in fase di sviluppo del prodotto ma anche in fase di pianificazione della comunicazione. D'altro canto, se invece l'azienda vuole analizzare qual è la percezione del prodotto dopo il lancio, quindi andare ad analizzare quali sono le esperienze d'uso che gli utenti hanno fatto di quel prodotto, ovviamente l'analisi la farà a posteriore dall'uscita del prodotto e verranno ovviamente integrati nella relazione quelle che sono le esperienze degli utenti, quindi gli utenti hanno apprezzato più una certa cosa rispetto ad un'altra e quindi l'azienda potrà avere un insight su quelle che sono le cose da migliorare per il futuro e quelle che sono invece le cose apprezzate. Ovviamente noi consigliamo che l'ascolto sia sistematico, in questa maniera si può anche vedere qual è la differenza di base intorno al prodotto, intorno al brand, prima del lancio, dopo il lancio e anche durante la campagna di comunicazione. Grazie mille per la disponibilità e in bocca al lupo per la tua attività. Grazie mille.